Prima uscita ufficiale come allenatore di Trentino Volley, innanzitutto quali le emozioni? Felicemente emozionato, credo che la parte emotiva sia il sale, un po' la droga del nostro mestiere, di chi fa sport e poter provare così tante emozioni, essere così evidentemente emozionato mi rende felice perché significa che sono in un posto dove l'aria era refatta e non solo perché siamo in montagna ma perché entro a far parte di una società importante, forse una delle più importanti, tra le più importanti quindi davvero molto contento e felice di poter provare così tante emozioni. Nel suo ruolo personale come allenatore, cosa vorrebbe trasmettere alla sua squadra? Credo che la prossima stagione sia una stagione di un evidente cambiamento rispetto alla precedente avremo sulla maglia cucito uno scudetto quindi sarà per tutta la squadra un momento dove dovremo condividere un po' la ridistribuzione delle responsabilità e voglio farlo insieme alla squadra, voglio farlo insieme a tutti i ragazzi ed è per questo che li sto incontrando uno a uno per poter già da adesso cominciare con loro a condividere questo nuovo percorso. Si tornerà all'utilizzo di un opposto in modo tradizionale? Sembra di sì, poi non è ancora stato reso ufficiale ma torneremo a un modulo classico con secondo me un opposto di grande qualità sono convinto che possa fare molto molto bene soprattutto perché è inserito in un gruppo di ragazzi che gli daranno la possibilità di esprimersi al meglio. È stato già tracciato un percorso per il ritorno in palestra? Ma cominceremo dopo Ferragosto con chi sarà disponibile, avremo tanti ragazzi in nazionale fino all'ultimo minuto fino alla settimana prima dell'inizio del campionato che sarà il 22 di ottobre cominceremo con 6-7 ragazzi e una bellissima mano da parte di tutto il settore giovanile che è una cosa che ho condiviso col Presidente e a me fa molto piacere perché mi piace parecchio lavorare con i giovani.